I risultati del fine settimana sono stati forse migliori di quanto si potesse sperare. Verona, Empoli e Cagliari hanno perso, l'Udinese si è fatta rimontare due gol in casa dal Sassuolo e così la zona salvezza resta un orizzonte non proprio remoto per la Salernitana. Basterebbe un guizzo in fondo a Granata per tornare a contatto e guardare il mondo da una prospettiva diversa. Stasera la Salernitana va a giocare in casa dell'Atalanta, caldissima e la guerrita come mai in questa stagione. La vittoria sul Milan e la goleada in Coppa sono i segnali eloquenti che ha lo stato di grazia della formazione di Gasperini, ex di turno al pari di Inzaghi. Sfida suggestiva fra le due panchine, sfida delle grandi difficoltà tattiche in campo per una Salernitana che subisce in media due vuole a partita e che adora guardarsi dalla ritrovata venerizzativa agli aerobici pur privi di scamacca. C'è Muriel in grande spolvero ma gaspa tante soluzioni in avanti e un centrocampo imperniato sull'ex Ederson scoperto da quel Walter Sabatini che ora sembrerebbe tornato nei pensieri e nelle grazie di Danilo Irvolino. Il presidente pensa ad un uomo di carisma ed esperienza per dare una scossa ad un gruppo troppo molle e senza una guida forte chissà che l'ex DS, fermo da quasi due anni, non possa ricominciare ancora da Salerno proprio come nel gennaio del 2022. La partita di questa sera sarà un test importante per tecnico e squadra. Inzaghi è intenzionato a tornare alla difesa a quattro con tre riferimenti offensivi. Dià sarà la punta centrale e dovrà provare a prendere ed infilata ai centrali nerazzurri spesso libera uscita nella mira a campo avversaria. C'è una sempre più pezzo pregiato del mercato e Candreva potrebbero giocare alle sue spalle. Solita massiccia presenza di tiposinata sugli spalti, la squadra è chiamata a dare risposte anche a loro.